Piazza Garibaldi, siamo nel pieno centro di Taranto, nulla da eccepire sulla bellissima cassa armonica in stile che si trova proprio qui nella piazza tra le più amate dei Tarantini. Allora questa cassa armonica leva spazio invece al frontale, alla bellissima struttura del palazzo degli uffici, cioè venendo dal ponte girevole copre quello che sarà l'ingresso di questo bellissimo manufatto, speriamo al più presto, ristrutturato nel migliore dei modi. Allora cosa fare? Siccome proprio qualche giorno fa abbiamo parlato di questa idea dell'assessore all'urbanistica Occhi Negro dell'Urban Center, quindi di un posto dove fare tempesta di cervelli sulle idee, spostare questa cassa armonica un po' a sinistra verso la chiesa di San Pasquale non comporterebbe grandi spese e soprattutto darebbe area a quella che è la visuale di questa facciata imponente del palazzo degli uffici di Taranto. Ecco piccole cose che possono servire a immaginarne di grandi. Ecco palazzo degli uffici che aspetta da tempo una riqualificazione, una ristrutturazione. Pensiamo soprattutto ai problemi che riguardano la compattezza dell'edificio, del tetto, della stabilità. Ma pensate se questo stabile tornasse finalmente, se questo grande palazzo tornasse finalmente alla fruibilità dei cittadini dal punto di vista sociale, culturale, imprenditoriale. Aspettiamo buone notizie.